Qualche minuto ad Alba, patria e mercato del tartufo bianco o trifola, re della tavola e idolo dei buongustai. La ricerca del tartufo è compiuta da cani particolarmente addestrati. L'obiettivo cinematografico descrive ogni fase della lunga e paziente battuta per rintracciare questo prezioso e gustoso fungo. I tartufi raccolti sono accentrati in uno speciale deposito e ogni anno superbi campioni figurano nella caratteristica fiera del tartufo che richiama ad Alba migliaia di compratori ed amatori. Grazie a tutti.